Ma sì, certo, così come l'invasione non esisteva, voi avete creato, mi scusi, parlava prima, diceva Lampedusa è un piccolo paese e ci sono le questioni locali, beh giustamente, grazie Dio che c'è qualcuno che si occupa delle questioni locali e non utilizza la questione degli immigrati per diventare un eroe internazionale dell'accoglienza. Quello che è stato fatto in questi anni è stato creare un sistema con i libri, i film, i documentari, i romanzi, avete trasformato Lampedusa in un'industria dell'invasione, questo avete fatto, evidentemente la gente è un pochino stanca, altrimenti l'avrebbe votata di nuovo, no, non la smetto, guardi, perché io sono libero di dire quello che mi pare. Ma il risultato è che l'isola è uscita dall'emergenza, è sotto gli occhi di tutti. Il risultato è che nell'isola gli sbarchi continuano perché ce ne sono stati centi. Ma l'isola non è uscita dall'emergenza di sicuro, grazie a voi che avete trasformato gli sbarchi, avete continuato l'invasione. Non alla volta, Borgonovo, Borgonovo, è in collegamento la Nicolini, facciamola finire e poi parli tu. Allora, una cosa sono i fatti, una cosa sono le chiacchiere e la propaganda, i fatti dicono che Lampedusa fino al 2013 aveva accolto anche 38.000 persone l'anno, 65.000 nel 2011, nel 2012 ne ha accolte 7.000, Nel 2013, ancora meno, siamo arrivati a 13.000, massimo 20.000 persone che per Lampedusa, in confronto a quello che aveva vissuto nel passato, sono niente. E l'isola è il luogo più attrezzato e organizzato d'Italia per il primo soccorso e la prima accoglienza. Più sicuro d'Italia, perché cominciano ad essere i foto identificati, sin da quando mettono piede nella banchina, vengono perquisiti già sulle motovedette, sulle navi, impossibile che scenda qualcuno armato sull'isola. Ma non c'entra niente, ma questo, anzi, Lampedusa fa scuola, riceviamo, io ho ricevuto delegazioni straniere di parlamentari europei, il commissario Avramopoulos, proprio per vedere come avevamo organizzato e come avevamo fatto uscire l'isola dell'emergenza. Se qualcuno dice che chiudere lo spot è rendere più sicura l'isola, perché è più sicuro lasciarli per strada, farli dormire per strada, farli defecare per strada, voi siete pazzi, voi siete pazzi.